Buongiorno a tutti, sono Andrea Alfieri, aliasi Geometro Alfieri. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. con denti, orbici, orbicine, orbici da seta, con denti da prosciutto. Domine, è arrivato l'anno di tutti. Cause I like you, yeah I like you, and I feel it's all Bohemian like you, yeah I like you, yeah I like you, and I feel it's all Bohemian like you. la domanda era perché no e penso che questa sia la domanda